Ritengo che ci siano tutte le premesse per poter pensare a un 2022 sicuramente efficace. Tutela della finanza pubblica e contrasto ai fenomeni di contraffazione, usura, riciclaggio ed evasione rariale. Il colonnello Caputo da 100 giorni alla guida del comando provinciale della Guardia di Finanza di Pescara traccia gli obiettivi del 2022. La sfida più importante sarà quella di monitorare il flusso di ingenti risorse che dovrebbero arrivare per la ripartenza del sistema paese post pandemia a partire dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Quello che noi faremo nel 2022 sarà quello di garantire una cornice di sicurezza economico-finanziaria in modo tale che tutte le iniziative messe in campo siano pienamente attuate in maniera efficace. E dopo il Piano Natale Sicuro, concentrato sul mercato illecito di luminari e giocattoli, la Guardia di Finanza sta per lanciare una nuova operazione contro la contraffazione. Si chiamerà Stop Fake e passerà al vaglio anche i prodotti della filiera agroalimentare. Tuteleremo le tipicità abruzzesi, ha detto il comandante. Tra i nostri obiettivi abbiamo anche quello di garantire l'integrità del sistema economico-legale. Cioè garantire quegli esercenti, quegli operatori economici che rispettano le regole, che lavorano quotidianamente contribuendo alla crescita del paese e creando occupazione. E' un tessuto economico-legale che è messo in pericolo dal grave fenomeno della contraffazione, che ha come obiettivo quello di garantire la sicurezza dei prodotti e di garantire la tutela del Made in Italy e la tutela del Made in Abruzzo. Grazie. 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 Grazie.